Nella puntata precedente di giochi da urlo Lampade a terra così a cavolo Oh no Brodo! Qua non posso aprire Ma allora fammi passare di qui Mi ci fai passare grazie Ah! Brodo! Salve! Bentornati su GameHug In questa nuova puntata La seconda Di giochi da urlo Su Whistleblower Di Outlast Non ci vedo un cavo Cioè non capisco Dove devo andare Però ok Ah! Faffanbrodo! Mi ha fatto pigliare un colpo questo Ah! No! 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 Sei scemo sei! No! Oh! Oh! No! No! Senti! Senti! Ti ne possiamo parlare Eh? Sì contati Eh? Siete scemi siete Completamente matti Fatemi uscire di qui Che devo di essere morto Sì certo Guarda L'aero tuo Sì sì Ah fa E il prosciutto stava fa Che d'è Va bene Che partiamo benissimo Mamma mia Documenti Buono buono Comunque domani O dopo domani dovrebbe arrivare lo speciale Dei 100 iscritti Vi ringrazio tantissimo Solo che Adesso voglio capire dove devo andare Non so tanto lì dove Stava il fumo Però credevo di morire Ok non è come su Batman Che col fumo muori Ok Ah Mi so preso un colpo Prima Quando Cioè Non è che me lo so preso Quando ve l'ho aperto la porta Me lo sono preso Ma Vorrei capire Dove devo andare Di preciso Ok C'era una scala Bene Ok Quindi io salirei Da dove Da qui Giusto Da qua Perché questo rumore C'è un eco tremendo Grazie No Ma non volevo cadere Eh oh Che te salti così Mi fa pigliare dei colpi Solo perché salta Che poi se Mi notate urlare Perché ho alzato il volume Nelle cuffie Ok Che piano piano Ok Bravo 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 Prima si è buttato Cosa Lo spettro No No perché lo spettro Sani corri Me lo sto sognando lo spettro O c'è davvero Va bene Va bene Ho capito tutto Guardate C'è una batteria lì E non la posso prendere Bello Che caspita Scricchia da tutto Fatemi vedere Se posso andare a prendere La batteria Maio Sì Grazie Grazie Adesso me ne andrei Ok 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 di nuovo il tizio Oddio Non c'è niente Non c'è niente Va bene Ma come scappo Come scappo No No Scappa Scappa Ok 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 No Saltami Oddio Che colpo Va bene Va benissimo Ok Ok No C'è un casino di cumo Mamma mia Ho capito ma non mi fa così Amica per salvare lui Chiudo il gas per accedere alla camera Ovvio Ti sembra giusto Ma io posso salire qui Cos'è Perché tutti sti rumori Del cavolo E che cavolo Ma me lo fanno apposta Sto puntata tutta così Allora C'è che giuro sto Non riesco a capire Sto puntata Cos'è Aiuto Bello Che si vede di più senza videocamera Quindi ricarico le batterie No C'è un puzzante finto Va bene Grazie Perfetto Cioè Ha molto senso Quello che ho fatto Eh Sì sì No Come No perché Di nuovo lui Ecco perché Mi fanno nascondere Ci credo io Guardatelo Guardatelo Vattene Va No 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 Io non ci sono Io non ci sono Ok Come mi cerca al sotto i letti No No Ok Stai dall'altra parte Sì Io corro Non prega niente No 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 Stavo correndo Da questa parte Da questa Da questa Non da quella Non da quella Non da quella Non da quella Sali Sali sopra Sali Bello 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 Quando non mi sale Sono sempre contentissimo Corri Corri Di là Dove devo andare Non lo so Penso qui No è chiusa E quello Mori Torna Sali su Bravo Bravo Bravissimo No 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 Devi correre Di correre Bravo Bravo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Cos'è Non lo so Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Mi stanno uccidendo Oddio C'è Nelle orecchie Proprio Proprio Aiuto 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 Va bene Va bene Mi fate spegnere Sta cosa Dove si spegne Dove si spegne Io dovrei spegnerlo Veramente Ok Bene Avevo paura Di prendermi Un colpo Che cos'è Perché tutto sto casino Ok Va bene Ho preso la batteria Ma No E perché Dai Stavolta Non mi so Preso un colpo Però Rompecavolo E quando Rompe Rompe Vai No Ma dai No 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 E corri E che cacchio No 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 Ma si può sapere Dove stanno Questi controlli Oh Aiuto Sì Sono Nascosto Sono nascostissimo Bravo Bravo che te ne vai Hai capito tutto Non si preoccupi La seguo da dietro Non c'ho paura No Senti corri Corri e vai avanti No pensavo ci fosse un buco Aiuto No E corri Ma non esistono dei comandi Non esistono i comandi No No Aiuto Aiuto Li nascondi di sotto Eh il gas Perfetto Allora Questi comandi Dove stanno? Beh Ok Ho la batteria E fin qua Tutto Ok Ma no Ma no pure da qui No Io devo trovare questi cavolo Di comandi Da dietro Da dietro Mi arriva Sali 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 Bravo 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 Oh 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 Finalmente Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Cavolo Fammi chiudere sta valvola Oh Va bene Ok io direi che per questa puntata di Gameag è tutto E noi ci vediamo nella prossima lunedì sempre su giochi da urlo non riesco nemmeno più a parlare Va bene Ciao Ciao